è un video non so scrivere sui giorni non anch'io mi vuole a capo ma Gre non c'è, prendiamo il posto vuoto Gre ci sei, ci sei rimasto indietro sei in testa si ma è l'inconfidente, non ci sono bocchina mi chiedo da una macchina fotografica cosa si vede? bello, si vede da su fish stai volendo piccola fai fish fish fai fish fai fish fish fish